Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4 potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre se volete potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games or Cover The Gamer 12 scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games e stendo in modo permanente l'evento supporta un creatore. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola a guardare il video nella descrizione. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione. Per maggiori informazioni vi invito. Grazie.